Che questo personaggio che non crede più nel futuro e che farà qualche mossa per cercare di capire alcune cose, di sistemarle, però quello in cui si rogiona è soprattutto questo salire via San Francesco, da Piazza Verde, e andare su la facciata della chiesa dell'Immacolata, dove è stato battizzato e dove...